musica 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 ma dovrei darvi video però ma dai andiamo a selectorati chi è dare i video pure gente chiamolo ho vinto facciamo 2.000 venga bene e è successo devo arrivare a 20 vinto si ho fatto ho fatto arrivato a 20 ho vinto 4.000 рыв 4.000 e vanno e perché sono un po' di otto un po' di otto un po' di otto e lo so visto? questo è un po' di amici ma l'ai già fatto e allora insomma è so no venga venga 21 godo sono, i binglou oh venga al casino stiamo facendo gioche Stiamo giocando a Blackjack A Blackjack Cavallo ha giocato Un cavallo, no Un cavallo, no Un cavallo non è arrivato prima La gioca di via è arrivata una Ma questa è stra-morte E allora ho giocato Un cavallo Un cavallo Un cavallo Un cavallo Un cavallo Un cavallo Di un cavallo Ma tuoi padre è nudo con le mani In tasca Mio padre nasca con le madri nudo Ed gördica SeHTT Is busBido No miss Sio Riccusata solo ma che succede ma lupaggione usa raccino ma come ragione due giorni da solo vai no 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 perché tu tra gli arti perché tu tra gli arti sull'orologio ho speso 4 milioni per fare un colpo e ho preso il 600 tra iardo o anni di risorto come si manda in viva che coppogolpa è stato un bel colpo che sono arrivato ma porto al mio come iniziano a perdere vado quando non andiamo bene di 200 io sono sotto di 200 facili facili di parlare va bene essere di tutto ci sto offendendo ok io non ho capito come cazzo a parte chi è come cazzo ha fatto quel cornuto prima a fare blackjack senza manco chiedere le carte perché facciamo ma non c'è la miseria chi è entrato? è entrato un uomo di Bruerno ma porco dio raddoppia raddoppia come 13 ma posso raddoppiare a fare 13 ma che cosa è? ma vabbè raddoppio e faccio 13 ma che senso? raddoppia 1 e fa 13 raddoppia 1 e fa 13 che si che faccio? sanpei venti sanpei sanpei mi sto ma dove cazzo ti abbia? raddoppia raddoppio raddoppio ma potremmo raddoppiare e fare 16 raddoppio raddoppio ma veramente ma sto coso brutto ma benissimo passata ma c'è ne andassi a fancù ma c'è ne andassi ti ricordi quando giocavamo con la cinese? la cinese portava più fortuna insomma mi gioco tutto all in all in 2 all in 2 2 ma chi è? dove era che porta bene? ah ma come c'è una quella per nuovare dalla i8 ho fatto bussa ma c'è una madonna è ora per vendere eh raddoppio 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 è raddoppio dai quanto ma posso fare 12 con raddoppio godo 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 raddoppio 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 non sento non sento non sento ma che cazzo oh 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 no quando la vince del oggetto è con il der mannaggia marone assop 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 6 ah 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 9 ma no ma vaffanculo ho fatto 17 mamma ma io ho fatto 17 ho fatto io 21 iiii iiii tutto vai 2000 dai hai è stato di analgo vedi i cammini veramente ce l'abbiamo presa durante la quarantena 17 discorso dio so corso pago 17 che faccio raddoppia carto oppure raddoppia 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 tredici facciamo i due cps 15 uomo ma che culo ma che culo ma che culo il pacco 820 si 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 ma non ha capito ma non ha capito ma perché da tutti e tre compreso questo sono sempre a quello a prenderlo in culo a te piace ma domani la revisione le nuove 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 vabbè te quello qua 5 20 si godo con 18 tutto in bo si che sta passando qui stava facendo da solo chiamano peppe d'annunzio chiamano a me pepe d'annunzio il famosissimo giuseppe d'annunzio dove siamo 18 16 che faccio con 16 raddoppia non è mai giocato a 3 non mi sto mi sto faccio il stesso annunzio dai rischiamo dai insomma 13 o no 16 no no ci posso credere non ci posso credere non è possibile cioè ci divertiamo di non c'è cosa il deck Jack che affare gare così ma siamo 3 eldand 2 e 3 ma insomma ma dai insomma una carta 16 che faccio mi sto con 16 e stai stai no no faccio stesso non vediamo ora ora vedo io la carta il tuo io qua sei da doppio come 17 di assentito ma ma di ma vai da ammazzarci su 2000 pc per lo presto con difficoltà ma non ha voluto ma non a fare i carabiniere sono ma 50 fisce dovuta ma che fulo vado ma i facciovetti con 50 fisce giocate ma insomma eccomi qui il carabinieri è entrato in città quanto c'ho io 20 ma che gli è venuto a tuo fratello a cosa messo ma che cazzo io sono vinci vinci sono sotto di 2000 fisce ma che cazzo di la mente a fare i mesi sotto di 2000 fisce mesi ma io mi gioco di nuovo 50 dai ma con l'idea di merda tuo padre l'uso tuo padre l'uso ma nabbo dov'è tu hai fatto un po' sballo 21 codo che culo di merda come siamo godo codo perappo peppo parara eccoci qui bentornati nella nuova puntata di black non ma ci siamo restiti uguali come si fa qua il banco che si era pregnove guarda come mi chiedo un'eprata per a moda euro 18 ok a poi io sono a posto mi sto io mi sto gli ho messo god ecce sembrano 2 zero però la doppia poi a poi io mi chiedo come si fa se però vedo godo godo bella atmosfera godo 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 ma questo scelto sta risciuta da una puntata quella ha giocato uno ma veramente giocato uno non basta che quante quante a sui l2 file l2 13 quanto ai l2 ti è fatto 16 ok grande è buona 17 ai quadrati stati no no ma è cosa no no ho vinto la pizzeria la cottura del pisello duro la macchina back jack tra gente parlare e guardate che pimpata senso nido quanto è puntata da un'altra il papago io ho trovato l'asso l'asso quanto vale 11 ho fatto 3 nabbo deve fare 21 non ci credo ho fatto 9 ma con un numero in me oggi sono l'asso al 10 aspetta l'asso al 10 è benvenuto ragazzi ciao testo testo tu hai 18 che cazzo 5.000 vinci ho fatto blackjack 100 e ho fatto giacomo nero blackjack a testo bella oh marescia ma questa cosa che stiamo facendo in pazziccio in pazziccio il mare sanno debutto c'è 8 quanto 10 10 12 già faccio delle i i maronna che c'è Non lo sapevo, questo è lui che ha scelto sta cazzo Non lo sapevo, non lo sapevo Com'è la tracist? AAAH! Pannaggia, un'astravole! Ho perso 5000€ 5000€ è il cazzo Vai, Paco, io mi starei Paco dice che cazzo Paco Uè, ma questo qua c'è un cappa Ho perso 5000€, ma i suoi strums Non dobbiamo scendere i soldi Non deluso, io sono deluso Che sei, Paco? Sono deluso Paco, ma io ho puntato 5000€ Alziamo, voglio alzare pure la puntata 5000€ Io faccio 30€ Si fa stesso Ludo Vai, vai Non vorrei che sto Ma se lo fai L2 Io lo so, lo so, è da lontano Non vedo Ma per il numero di merda Mi dà 9 Ok, 9 Non vediamo che c'è una figura Lo sapevo su lì, ma c'è la figura Dammi 9, ah, RAP NOV RAP NOV Ma chi ti fai motivato da tutta volta? Ho sbagliato Ho sbagliato 60.000€ Ho fatto Ho vinto 60€ Anche il tavolo ha fatto Ha fatto 22 Ho fatto 19 Il tavolo ha fatto 23 E chi si è scello? Ehm, è passato Ma voi vai giù, io voglio giocare con voi Ma che stavo facendo con Matteo Renzi? Io ti fai scelto Ma che stavo facendo con Matteo Renzi? Oh, mamma mia KJ Cavolo, Giacomo Io mi sto, io mi sto facendo Io sto, io sto E' fai il raddoppio 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 Quanto ho fatto? Trento? E' un po' sballato Con 50 fish sono rimasto Sì, ho vinto, ho vinto Leccatemi il pall Oh, bella atmosfera Bello sesso Facciamo sesso C'erano 12 Mi bastava pure 9 Non c'erano 10 Mi servivano su 10 carte 9 Mi uscita quella che non mi serviva Piacere, mi chiamo Donna Piacere, io mi chiamo Don Matteo 100 Come 5? Eh? Ma che catti in me? Ma come 12? Ma che schifo? Comissario Ragazzi, io farò una cazzata Farò una cazzata Farò una cazzata che erano doppio Sì, infatti quello lo fa 15 Eh Un'altra carta mi pentirò sicuramente Mannaggia la madonna Guarda aca Quanti? 16 16 Eh Carta 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 Mamma mi sta da nora Mi sta da nora Mi sta da nora Mi sto Guarda qui Oddio, allora Io volessi fare nora Sì, nel ca Mi è cadata cosa rossa E mi fa pure uno buffino Gozo Hai sballato Ah, ma no E' sbagliato E' sbagliato E' sbagliato E' sbagliato Sbagliato Che voleva quelle carte In me che vengono Mi voleva Sbagliato Voleva Doppeaggio Capitano Di una cosa Vanna Sei Si Ha sballato Vito 16 Se C'è Sbagliato Del di pulo che non si stesse Cavettavolo Pago Alla prossima Tutti quanti Raggio Raggio ah io ho 100 fish pur volendo io ho 3 mila perchè io prima ho votato 5 mila e sono pazzo 3 che cazzo la radio questo numero in merda ma perchè non vinci con 3? non c'è capito ma che schifo quanto figi c'è da fare? ragazzi io per pietà del signore chiederò una carta e lo farò per voi 19 sto bene allora signor allora a mano a carta sono pazzo 17 i ramanati sono pazzo mannacce oh che c***o guarda un stockpuno guarda la pago oh guarda si porta la visuale guarda le prime persone guarda sta tutto depresso ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto 4 mila guarda la percissime di vedere devi vedere pago quando in prima persona devi vedere quando pago vede le mie carte guarda la volta come si gira mi fa ma vabbè non mi sta precento è pago che fa c'è 10 non c'è sotto c'è 100 fish io quando esco il sabato mi versi tutte le gambe e poi mi esco con 10 euro 18 bello io sono pazzo mi gioco le palle che muoce 19 sul tavolo sul tavolo è 19 ho fatto la figura ma pago mi dovrei preparare io fra le 7 stacco siiii perchè? sei andato a giocare ma da me le fonte calcetto perché sono una caglie con caglie con caglie con paghi che vai a giocare gratis insomma pago andiamo al casino a farci un po' di soldi insomma ho perso 900 qualcosa pure 1000 ho perso io ho perso 6000 ma come 2 ah 13 ok dai dai uuu guarda a pago guarda a pago figura guarda a pago guardiamo a pago guardiamo a pago ultima persona vai vai no no non voglio niente sto capotto a questo hai già fatto 39 hai già fatto siii ho vinto 4000 pistola no basta io voglio più niente so io sto sotto 2000 me ne sono andato basta ciao ma come me l'ha lasciato sulla me